video games party 2012 siamo ancora a cartoon x questa volta proseguiamo con alo rich andiamo ai nostri secondi classificati eccovi qui voi siete in quattro perché siete i pistoleri io vi ho rinominato pistoleri raccontateci un po com'è andata la vostra sfida ma è andata bene diciamo che abbiamo trovato difficoltà soltanto nell'ultima nella finale perché il team avversario era veramente veramente forte quindi ve la siete giocata diciamo ce la siamo giocata con gli ultimi classificati anche se loro essendo un team erano molto più preparati comunque siete soddisfatti sì molto soddisfatti anche se il livello degli altri team era medio basso e succede diciamo che succede andrà meglio la prossima volta allora per voi una testa una medaglia testa e diciamo sarete più fortunati la prossima dai e chi si becca queste meravigliose cuffie ovviamente loro i primi classificati ve ne comincia a dare una una per te una per te e una a te voi siete in tre ne manca uno purtroppo è dovuto andare per prendere il treno se non fa niente nessun problema allora ci dite velocemente com'è andata beh è andata abbastanza facile veloce si proprio abbastanza facile così si veloce poi bisogna vedere che noi siamo giochiamo un po di tempo insieme quindi ma vi aspettavate la vittoria onestamente si vabbè fanno bene a dire la verità e allora ragazzi ringraziamo tutti i miei complimenti veramente ancora e un'altra cosa per voi addirittura le coppe una due e tre assolutamente sì ok vorrei salutare all'italia il forum degli eros cioè il clan degli eros scusatemi e il nostro sponsor odelo sempre e bella gp vi salutiamo tutti anche noi e allora ragazzi grazie ancora e ricordatevi videogames party divertimento continuo